amici telespettatori benvenuti a vida il programma delle interviste a cura del sottoscritto oggi abbiamo un personaggio a molti di voi conosciuto leonardo marras ciao leonardo ciao a te fidiamo del tu come abbiamo sempre fatto da quando ci conosciamo io conosco leonardo pensate da quando avevo 17 anni ero stato ho bisogno di uno sponsor per il guido sieni e questo mociosetto prende il treno e va a cagliari alla sede della sip perché c'era questa persona che era attento alle iniziative della sardegna gli chiesi lo sponsor ciao 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 grazie per l'invito insomma anche perché andare in televisione dopo tanti anni mi crea anche un po di problema perché ho vissuto io di telecamere giornali di troppa visibilità quindi adesso ho qualche problema andare avanti alle telecamere però per te lo faccio volentieri io ti ringrazio di cuore non sto dicendo una fesseria in realtà non è uno avvetto agli studi televisivi quindi sono orgoglioso di averti di averti qua con me allora tu sei nato del 1950 giusto esatto e tuo padre di villanova monteleone e però già da piccolo vivi in una frazione a san giovanni se non ricordo male dove vai a scuola insomma inizio elementari e prima dalle suole giusto sì non ho studiato a ittiri le scuole elementari perché vivendo nella casa cantoniera che si trova tra sassari e porto torre cioè a san giovanni quella zona di mio padre da ferroviere quindi gestiva la casa cantoniera quindi dovendo andare a scuola tutte le mattine a san giovanni era lontano quindi mi hanno scaricato dai parenti ad ittiri perché mia mamma era di ittiri infatti vengo formato prima seconda e terza elementari ad ittiri paese vivace molto pieno di iniziative quindi mi hanno formato bene poi sono rientrato a sassari perché nel frattempo la mia famiglia si è spostata a sassari alla stazione palazzo dei ferrovii prima di di questo tuo padre prima di andare in ferrovia però faceva il servo pastore mio padre ha fatto il servo pastore quando aveva dieci anni perché il padre l'ha portato via dalla scuola e l'ha portato a lavorare con lui quindi che educazione ti ha dato un uomo che ha vissuto questa esperienza è straordinaria perché era un uomo che aveva guarda ti dico una cosa di mio padre oltre all'attaccamento nei confronti alla famiglia la moglie i figli parenti stretti e mi ha sempre detto una cosa figlio mio non essere mai invidioso maladia mala si invidia è maladia mala e aveva ragione perché io sono nato e non conosco l'invidia questa è una di quelle cose che mi fanno campare bene ho avuto una buona educazione mia madre era di itirena la classica donna itiresi madre padrona nel senso che aveva il controllo della della casa matriarcale molto matriarcale eravamo avanti tutte queste discussioni moderne di oggi però ripeto ho avuto un'educazione molto molto semplice una vita fatta anche di sacrifici nel senso che non era facile in quegli anni poi sai mio padre ha avuto un problema di salute serio ha avuto un infarto mentre lavorava sui binari perché lavorava praticamente vicino alla cantoniera e ha rischiato di morire l'hanno trovato alla testa sulle rotaie insomma quindi meno male di che anno era tuo padre mio padre era del 15 quindi era poi era entrato a sasso è iniziato a lavorare le ferrovie a sasso negli uffici lì della stazione e la mia vita è iniziata lì proprio io sono figlio della stazione tu sei nato in Corso Vico cioè hai vissuto in Corso Vico sì 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 Corso esatto a fianco al teatro ferroviario proprio la palazzina a fianco al teatro ferroviario e ti svegliava il treno il treno di Sorso alle 7 e 10 arrivava il treno da Sorso e quindi io lo sentivo non era 7 e 40 perdono eh certe volte arrivava Battisti la Battisti la Battisti è 7 e 40 no 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 e scorda come era la sassari vecchia di quegli anni? e tu mi fai una domanda che vai dritto al cuore di carne insomma ma era una era una sassari straordinaria vivendo noi la stazione vivevamo proprio la vita che la mattina ogni mattina si affacciava verso la città i treni che arrivavano da Porto Torres da Sorso da Chilivan cioè arrivavano gli impiegati le commesse quindi c'era questo traffico in quella in quella piazza che portava poi verso il centro storico tantissime persone cioè noi da ragazzi insomma stavamo lì guardavamo le signorine chiaramente perché arrivavano a tutte le parti del nord Sardegna ed era una comunità dove non c'era violenza dove non c'erano davvero atteggiamenti brutti era bello vivere noi giovani abbiamo vissuto bene in quel periodo e per prima di andare a scuola per farti il palino mortadella e formaggio andava alla provida mamma mia mamma ogni mattina essendo io cos'era la sta provida? la provida era una sorta di supermercato dei ferrovieri che si trovava a fianco all'ingresso del teatro ferroviario dalla parte di dietro però non dalla parte centrale di Corso Vico da piazza stazione c'era il signor Carta che era il colui che e mamma ogni mattina si alzava mi faceva la focaccina con mortadella e fontina e quindi nella borsa a scuola e per la scuola questo panino veniva sottratto quotidianamente questo panino io che venivo dalle zone basse della città quindi studiavo poi nella zona alta dove studiavi? studiavo i ragionieri via la marmola però arrivavo dalla stazione quindi arrivava dalla periferia eh sì diciamo che non era molto e lì ogni per una settimana questa focaccia spariva allora le ricredazioni io andavo a prendere e non c'era perché c'erano i ragazzotti quelli più furbeti quelli che venivano dalla città alta che mi fregavano la focaccia e tu ti sentivi un po' soggetto? sì un po' soggetto però è durata una settimana perché dopo quella settimana allora il bullo sono diventato io nel senso che quella sembra una fesseria però quell'atteggiamento mi ha portato ad una reazione e quindi ho avuto proprio un atteggiamento di rivincita e sono diventato una sorta di piccolo rivoluzionario però se ti ho fatto questa domanda e ho voluto citare quest'aneddoto perché oggi si parla tanto di bullismo e spesso quando i ragazzi subiscono come nel tuo caso il furto non so di un panino piuttosto che di qualsiasi altro oggetto i ragazzi parlano di bullismo e i genitori vanno a difendere i figli a te da quanto ho capito non ti ha difeso nessuno se non una reazione tua quindi secondo te è bullismo oppure è la formazione del carattere di un giovane? ma io credo che tutto parta dall'educazione familiare credo che la famiglia è centrale insomma nella vita e nella crescita e l'educazione di ogni giovane è chiaro che oggi sono cambiati i tempi noi avevamo a pranzo e a cena i nostri genitori perché comunque era un tipo di vita diversa oggi invece sappiamo che la vita moderna ti porta comunque ad occuparti giustamente per mantenere la famiglia anche a stare lontano dalla famiglia e quindi ci sono ragazzi che spesso si perdono però credo che i giovani hanno bisogno comunque di essere anche lasciati andare nel senso che non possiamo reprimerli perché facciamo un errore se non gli lasciamo quella libertà perché devono crescere devono cioè la focaccia da soli se la devono poi riconquistare perché se interviene qualcuno per fargli riconquistare la focaccia allora hai perso quindi la panacea non è i genitori che difendono i figli ma anche i figli che si i genitori sono centrali però anche i figli cioè credo che ci deve essere una giusta i centri di educazione, la scuola, la famiglia, le parrocchie guarda io sono nato a Santa Polinari poi c'era la parrocchia di Santa Polinari e devo dire che c'erano dei sacerdoti che erano tosti perché si prendevano anche delle bottarelle in testa però era una scuola di formazione a proposito di scuola tu mi dicevi ai ragionieri sì dove non avevi un alunno modello? no perché perché so che hai ripetuto ogni anno io sono laureato in ragionieri ho ripetuto cinque anni cinque volte quindi è stata una no però ero i professori dicevano sempre che aveva un livello di intelligenza medio tendente verso l'alto ero un ragazzo non si applicava perché avevo scoperto il mondo tra virgolette della contestazione, della rivoluzione insomma erano anni in cui noi in buona fede portavamo avanti delle battaglie ideali tu hai fatto anche le occupazioni sì sì abbiamo fatto le occupazioni insomma erano le investigazioni giuste a quel tempo perché nel 68 tu avevi 18 anni sì quindi eri nel pieno della diciamo che ci difendevamo immagino cambiamo un po' l'argomento a scuola chiaramente si pratica lo sport hai provato a giocare a calcio ma lasciamo avete due piedi destri no 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 due piedi come dicono a ox di branch di branch due ferri da stile e quindi ti sei dato come direbbe il buon Lucio Masia che salutiamo ti ha le bocce sì saluto anch'io Lucio ma le bocce nascono perché essendo figlio di ferroviere il dopo lavoro ferroviario aveva una sede aveva il circolo bocciofilo che era sotto il ponte i due ponti per l'uscita di Sade prima dei mulini a Zeno insomma c'era il circolo ferroviario e quindi noi andavamo noi ragazzi figli dei ferroviari tutti in pomeriggio andavamo lì dopo aver studiato pulivamo i campi guardavamo gli anziani che giocavano e aspettavamo che qualche anziano ci dice vieni a giocare anche tu io nasco nel mondo delle bocce che non si pensi che il mondo delle bocce sia solo per gli anziani no è una grande fesseria a parte il fatto che è uno sport ci vuole fisico per farlo a certi livelli ma la cosa più importante è un'altra io che ho vissuto quel mondo e vengo da quel mondo io sono stato educato da quegli anziani che non erano intellettuali o professori dell'università ma erano lavoratori che ogni sé che lavoravano tutto il giorno arrivavano la sera alle 5-5 e mezza al circolo bevevano la loro birretta facevano la loro partita di carte la loro partita di bocce e a noi ci hanno educato erano gli anni in cui la droga ce l'avevamo stava iniziando davvero la società ti offriva le peggiori cose questi anziani ci hanno tenuto stretti, custoditi, curati, coccolati ed educati io devo molto al mondo delle bocce mi ha formato dal punto di vista proprio umano guarda ti racconto una cosa il primo stipendio io vengo assunto alla SIP allora mi danno il primo stipendio ci pagavano in contanti allora arrivo nella sede del circolo la sede del primo stipendio chiaramente lo devo festeggiare il minimo torno a casa la sera e non trovo più il portafoglio dove avevo lo stipendio quindi disperato non sapevo come fare torno al circolo poi non c'è nulla va bene è passata una settimana signor Pietrino Fiori 78 anni un anziano di quelli un giocatore di bocce ma era il gestore del bar mi chiama e mi dice bene 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 oggi e mi tira fuori il portafoglio e mi dice te devi stare attento lo dico in lingua singolo per poi insomma qualcuno terra chi ti solidina ti risiedi dravagliati teni di racconto e fai attento da quel giorno io ho una custodia di quei pochi soldi in maniera maniacale per dirti magari ti capita oggi quei soldi non li vedi più siamo nel 1973 esatto assunzione alla SIP esatto che era la compagnia telefonica italiana eh sì con che ruolo vieni assunto io vengo assunto all'ufficio vengo assunto a Cagliari quello che citavo prima chiaramente la disperazione nel senso che è assunto a Cagliari comunque vado a Cagliari lavoro a Cagliari per un mese vengo assunto all'ufficio del personale mi dovevo occupare proprio di personale dopo un mese aprono l'ufficio a Sassari vengo trasferito a Sassari il mio ruolo era quello di occuparmi delle paghe dei colleghi che lavoravano colleghi eravamo più di 500 allora solamente nella zona di Sassari io compilavo le paghe e c'era erano così grandi in foglie c'era la carta a carbone gigantesca io dovevo sfilare la carta a carbone compilare questa cosa qui ogni mese e ho iniziato e poi sei passato alle pubbliche relazioni no vabbè prima prima ho lavorato alcuni anni all'ufficio del personale di Sassari poi un giorno ricevo una telefonata dal direttore del personale della SIP di allora se venga domani in ufficio io vado a Cagliari qui mi stanno licenziando e lì mi mandano a Nuoro a fare il capo del personale cioè io che ragazzotto insomma il capo del personale io cioè nel senso ho detto ma scusate lei vada e lì però ho avuto questo ci tengo a dirlo perché quando sono andato a Nuoro a Nuoro c'era il mio collega che faceva il mio lavoro a Sassari era il mio omologo e quindi io gli andavo a fare da capo e questa cosa mi disturbava parecchio perché era un amico peraltro però era una persona di valore vengo difidato dagli uffici non dica niente che lei deve andare io esco dall'ufficio dopo che me l'hanno comunicato prendo il telefono mi hanno chiamato la risposta è stata di quelle che può dare solamente un amico mi ha detto Leonardo sono contento se vieni tu tanto se non vieni tu ne mandano uno da Roma quindi va benissimo quindi sono andato a Nuoro ho lavorato tre anni a Nuoro è stata un'esperienza straordinaria anche perché i nuoresi sono gente guarda io non ho mai firmato con i sindacati un accordo mai firmato solo una stretta di mano gli impegni mantenuti da parte mia quindi da parte aziendale e da parte loro è stata un'esperienza eccezionale e in più sono riuscito quando sono andato via dopo tre anni di far nominare il mio collega a capo del personale e poi ti sposi con Patrizia eh vabbè cagliaritana quindi io non ce l'ho con i cagliaritani quindi la conosci a Cagliari Patrizia no io la conosco nei miei anni da rivoluzionario quando studiavo i ragionieri andavo a tenere le assemblee assieme anche ad altri colleghi anche loro rivoluzionari e la colombia ad Alghero perché studiava ad Alghero veniva da Cagliari dopo un po' di tempo ed è questa storia storia vera e potete accertarla chiamando chiamandoli una delle una mattina di maggio chiaramente a scuola non ci sono andato ero seduto in piazza d'Italia sotto il sole vedo uscire questa dagli portici questa fanciulla bella bionda io mi sono andato incontro era un po' sfacciatello e ha detto io e te un giorno ci sposeremo ma così così lei mi guarda e mi fa si inizia a preparare i documenti io le spalle dopo qualche mese ci incrociamo in una festa di quelle studentesche e da quel momento ci siamo messi insieme perché io gli impegni li mantengo perché gli hai detto questa frase cosa ti è stato a dire ma non lo so perché sai di quelle stupidaggini che tu dici da ragazzo però forse c'era qualcosa un amore a prima vista non lo so però alla fine ho mantenuto l'impegno è stato ancora insieme eh sì perché io mi ero sempre insieme all'unice dopo tanti anni sì ti ho fatto la domanda poc'anzi quando tu inizi a fare le pubbliche relazioni della SIP perché un aneddoto che ho letto nel tuo libro che vediamo anche nella copertina di sovrappressione in questo momento che mi ha incuriosito un aneddoto che mi ha incuriosito molto carino che molti sassalesi probabilmente non conoscono cioè a un certo punto la statua dell'oblisco di Porto Sant'Antonio che era stata eretta all'epoca di Oreste Pironi esatto nel 1954 se non ricordo male è di Tavolara nel 1955 opera di Tavolara sì un giorno sembrò che qualcuno l'avesse decapitato o meglio che il vento avesse tagliato invece ce l'avevo di raccontare allora io lavoravo a Cagliari eh e mi occupavo dopo che ho fatto il direttore del personale a Nuore poi a Sass vengo chiamato a Cagliari a fare il direttore delle relazioni esterne della comunicazione degli affari tutto il giro e mi entro in un mondo che è cioè affascinante cioè il mondo della politica dei giornalisti degli editori cioè una cosa contatti rete relazioni grandissime io sono stato il primo utilizzatore assieme all'ingegnere Ugo Bonsi direttore della SIP di allora del telefono cellulare io a Sassari certamente il primo e poi parliamo anche della prima videochiamata esatto mamma viveva a Sassari viveva da sola quindi noi quando arrivavo il fine settimana io andavo a trovarlo arrivo su piazza Sant'Antonio mamma abitava dove c'era in Corso Vico a fianco del teatro ferroniario e vedo che la statua era senza la testa la statua di Sant'Antonio vado a mamma la saluto e le ho detto mamma mamma l'ho visto eh vi zoom su Entu Sagonca non c'è più la testa il vento era stato imputato al vento esatto questo è quello che allora era sindaco Borghetto Franco Borghetto ancora mi ricordo io chiamo Franco siccome ero reduce da un intervento a Cagliari sul portale Zapata che era un portale storico a Cagliarità non l'avevamo ristrutturato come SIP avevamo fatto noi l'intervento l'avevamo finanziato sì l'avevamo finanziato anche a Sassari chiamo Borghetto e ha detto magari magari hai proposto di intervenire con l'azienda per risolvere giustamente ci siamo dovuti raccordare con l'architetto Dander allora c'era l'architetto Dander immediatamente ci ha messo in contatto con un'impresa specializzata comunque l'abbiamo ristrutturata completamente quando l'avete tolta cosa è successo? no allora quando noi non abbiamo sostituito la testa perché quando i tecnici sono andati su per sostituire la testa gli si è sbriciolata tutta la statua allora siamo riusciti a vedere il calco originale dalla famiglia se ne sono occupati loro i tecnici che hanno l'impresa quella statua lì è stata completamente rifatta di che anno stiamo parlando? novanta novanta tre novanta quattro sono quegli anni lì insomma adesso l'anno esatto non me lo ricordo avevamo anche restaurato la fontana quella che si c'è sotto la fontana che problema aveva quella? i soliti problemi che hanno le fontane nelle città che non funzionano non arriva l'acqua sono i tubi in casa e poi l'avevamo restaurato è ciclica questa cosa perché anche ultimamente le fontane sono state ripristinate da Pozzi di Vida in poi adesso di nuovo non funziona è ciclica ma infatti mi prendevano in giro e mi hanno detto tu hai un gabbo di russanto va bene ascolta a proposito di recupero anche si strumpa c'era un periodo dove la famosa lotta tutte queste cose si sono fatte non perché mettevo i soldi io di tasca io avevo la delega dell'azienda per investire i soldi in iniziative sociali culturali sportive dunque tu valutavi però quali io valutavo si strumpa nasce perché io leggo il giornale in mio ufficio a Cagliari una mattina ogni mattina mi portavo nei giornali e leggo sull'Unione Sarda e anche sulla Nuova Sardegna che si strumpa la storica lotta era a rischio perché non c'erano più finanziamenti io senza che nessuno mi chiedesse niente chiedo ai miei uffici di rintracciarmi qualcuno che si occupava di Sistrup lo rintracciano me lo passano al telefono io gli dico che avevamo letto questa cosa quindi eravamo interessati insomma dare una mano valutare se c'era la possibilità di professor Frau ancora me lo ricordo da Ollolai e gli ho detto guardi venite a trovarmi in ufficio io sono a Cagliari però già sentivo e ho detto secondo me questi pensano sia uno scherzo potevo anche comprenderlo infatti dopo un'ora ricevo la telefonata dal direttore della filiale di Cagliari di Nuoro della SIP dice ascolta ma hai chiamato qualcuno di Ollolai gli ho detto si ho parlato ah no perché mi hanno chiamato il lunedì mattina quando sono venuto in ufficio ancora me lo ricordo questi finché non mi hanno non sono entrati là dentro e il portiere lì all'ingresso gli ha detto che esistevo secondo me non ci credevano non ci credevano era in vero sicuro che qualcuno li volesse aiutare quando sono venuti su in ufficio mi hanno raccontato un po' le cose quanto mi serve non vi dico l'importo insomma però comunque loro sono rimasti scioccati sono venuti in diretta gli ho detto ad una condizione che noi siamo chiaramente il sostenitore unico perché abbiamo bisogno e da voi sperimenteremo il primo collegamento telematico dalla Sardegna certamente ma forse anche a livello nazionale e si strumpa andò in diretta avevano portato una serie di apparecchiature lì all'online nella palestra collegati con il mondo via internet che non sapevamo neanche cosa fosse e lì voleva arrivare proprio e quindi lì c'era Federico Palomba che era il direttore il presidente della regione con il quale aveva un buon rapporto e gli ho detto vieni che stiamo ed è venuto e si è avvissuto tutta la giornata con queste apparecchiature bellissime è stata un'esperienza straordinaria e lì abbiamo davvero iniziato a far comprendere che la tecnologia non era solo delle grandi città molti ragazzi che oggi usano internet in maniera naturale molti non sanno che internet nasce in Sardegna la prima rete e tu hai un'esperienza da raccontare beh sì perché noi abbiamo in Sardegna il CRS4 il CRS4 è un grande centro di ricerca peraltro era presieduto da allora da Rubia dal premio Nobel che io ho avuto il piacere e il privilegio di incontrare e di conoscere questi signori mutuando l'esperienza delle reti americane la rete internet nasce nelle reti militari insomma acquisirono questa competenza e nasce il primo sito internet in Italia www.crs4.it quello è il primo sito internet nato in Italia da lì poi alcune costole le costole come persone fisiche si sono staccate per andare dentro l'avventura di quel genio che è stato Nicola Grauso tutto gli possiamo dire ma guardate io l'ho vissuta salutiamo Nicola Grauso quella stagione stagione l'ho seguita quella vicenda per questioni professionali credetemi noi abbiamo perso un'occasione storica adesso parliamo seriamente cioè la Sardegna per Grauso e per chi gli stava intorno in quel momento e la Telecom era lo sponsor tecnico perché io ho seguito proprio il passaggio dell'investimento che Telecom ha fatto per dare rete poi a video online così si chiamava l'idea di conservo ancora il flopidisco conservo ancora il flopidisco il flopidisco e lì l'idea era quella di fare della Sardegna una piattaforma tecnologica al pari di Cupertino poi negli Stati Uniti perché la Sardegna poteva formare sviluppatori e programmatori e offrirli al mondo senza spostarsi dalla propria sede in residenza idea straordinaria perché non c'era nessuno al momento che aveva è un progetto che scusami che Grausio aveva presentato alla Telecom no la Telecom è diventata io nasce io vado a Roma per questione di lavoro mi chiama l'ingegnere Chris Cuoli mi dice chi è era il responsabile della Telecom del centro d'Italia quindi aveva competenza sulla Sardegna mi chiamava e mi dice passa da me in ufficio quando sei a Roma vado da lui lui mi chiede conosci questo Grauso gli ho detto beh chi è che non conosce Grauso è proprietario dell'Unione Videolina Radiolina noi avevamo rapporti di lavoro con il gruppo per questione anche di pubblicità perché io acquistavo la pubblicità da loro apre il cassetto e tira fuori questa cosa c'era questa gallinella dove c'era scritto video online dove c'era la Sardegna e c'erano queste frecce che partivano in tutto il mondo e allora mi ha detto ci stanno chiedendo di essere il loro partner tecnico e a fianco all'idea noi in quegli anni in quei mesi nasceva Telecom che era la fusione da tutte le società del gruppo c'era la SIP erano le cinque società che c'erano e nasce Telecom e allora dal punto di vista della comunicazione per noi era un'occasione peraltro quindi andiamo dentro questo progetto e e lì io mi sono affascinato perché poi Grauso aveva questa visione era oltre perché abbiamo perso l'occasione perché noi Sardi non riusciamo a conservarci le cose perché siamo gelosi invidiosi se vediamo uno che fa qualcosa intelligente lo dobbiamo massacrare hanno massacrato abbiamo distrutto noi i Sardi la politica Sarda a quel tempo lo ha distrutto e non vi sto dicendo fesseria andate a controllare le cose che lui fosse esuberante pittoresco tutto quello che volete però noi abbiamo perso un'occasione allora e la prima videochiamata come? la prima videochiamata straordinaria perché la prima videochiamata la facciamo dalla sede della telecom di Via Calamattia a Cagliari e ci colleghiamo col centro di ricerca del professor Rubia in Svizzera e io ricordo anche l'emozione insomma un poverello che arriva dalla stazione a cui fregavano il panino cioè che giocava a pallone con i pantaloni strappati collegato col professor Rubia io è un piacere vederla al telefono questa è stata la battuta che poi è diventata storica con i miei colleghi che mi prendevano in giro lui lì ci ha massacrato peraltro non per la qualità della comunicazione perché ha detto questo è il futuro però siete troppo cari non si può pagare una vita allora costava cioè lasciamo stare era impensato come il costo delle telefonate dai cellulari era una cosa impensata all'epoca sì però lì abbiamo un'altra volta lui è stato bravissimo perché ha detto la Sardegna ancora una volta dimostra che nel campo tecnologico è all'avanguardia è avanti è così è così è stato sono parlando degli anni 90 eh sì sì anni 90 e proprio successivamente negli anni 90 lui che è veramente un creativo è uno che è infaticabile proprio instancabile inventi Icnos è un'altra volta